Per Pescara Sud c'è un finanziamento regionale di 300.000 euro a valere sui fondi Parfas destinato alle attività di ripascimento del tratto di litorale che va dal Fosso Valle Lunga al confine con Francavilla al mare. Ieri pomeriggio si è svolta la riunione tra il comune di Pescara e le associazioni dei balneari cittadini e dei titolari di alcuni stabilimenti proprio di Pescara Sud. Una riunione in cui si è parlato degli interventi urgenti da effettuare e in cui l'assessore del vecchio ha annunciato di aver parlato con la soprintendente ai beni archeologici ed ambientali Patrizia Tomassetti la quale ha dichiarato la sua disponibilità a venire in conto all'amministrazione e agli operatori assicurando ad un progetto relativo a tutti gli stabilimenti interessati dall'erosione per diretta iniziativa dell'amministrazione un'autorizzazione la cui validità potrà essere stesa ad un quinquennio. Abbiamo concordato tutti insieme di agire su tre filoni separati il primo è quello dell'intervento immediato attraverso le risorse che già la Regione Abruzzo ci ha dato attraverso i fondi Parfas per 300.000 euro e quindi andremo a intervenire sul ripascimento tra Fosso Valle Lunga e il confine di Francavilla dopodiché domani stesso faremo partire una nota all'indirizzo della Regione Abruzzo per un intervento ancora straordinario per intervenire su altri settori sempre della Riviera Sud che non sono ricompresi in questa prima fase ma cheppure hanno subito evidenti danni dall'erosione. E in ultimo la richiesta da parte di tutti è quella di un intervento globale da parte della Regione Abruzzo a completamento di quel progetto ricama che possa dare finalmente salute, serenità agli operatori della balneazione e che non devono stare ogni anno con il patema d'animo di dover rivedere le loro spiagge ripascite perché altrimenti non riescono a mettere gli ombrelloni.